La squadra ha dato segnali di compattezza nel percorso di crescita intrapreso? La cosa che a me dispiace di più oggi, al di là del risultato che mi rammarica, a me dispiace molto per i giocatori oggi. Perché le ho visti provare a dar tutto in campo, a cercare di fare il possibile per poter arrivare a un risultato positivo contro una squadra che è fatta di campioni. Però nonostante questo c'è stata grande compattezza, grande partecipazione e non portiamo a casa un risultato positivo perché magari alla fine questi campioni hanno fatto la differenza. Forse anche io nel finale potevo aiutarli un po' di più, però credo che questa squadra ha dimostrato grande partecipazione e oggi sono rammaricato per loro. Quali sono gli aspetti positivi e quelli invece da migliorare alla luce di questa prestazione e in vista del prossimo ciclo di partite? Gli aspetti positivi sono questa compattezza, questo modo di interpretare la fase di non possesso. E' ovvio che poi, soprattutto anche nel primo tempo, noi siamo mancati in 4-5 situazioni dove magari puoi costruire in un certo modo e in un certo modo poi porta la squadra ad avere una fiducia diversa. Ecco, in questo momento qua dobbiamo trovare quella fiducia, ma non attraverso la fortuna, attraverso la maggior precisione nel fare le cose, il maggior coraggio nel farle. Io capisco che in questo momento sia difficile perché è difficile per il momento che viviamo, però dobbiamo saper superare questa cosa perché abbiamo l'atteggiamento giusto. Perché sono convinto che con questo atteggiamento riuscirai a portare a casa il risultato. Con gli impegni ravvicinati, quanto è difficile far quadrare i conti con un numero sempre alto di infortunati? E questo complica molto, noi purtroppo dalla prima giornata stiamo facendo i conti con questa cosa ed è negabile che questo porta delle difficoltà, però a me non piace piangermi addosso perché bisogna dare merito a chi va in campo che sta dando tutto quello che può. È ovvio che però, soprattutto nelle parti ravvicinate, questo può pesare, ma non abbiamo il tempo di lamentarci, io ne ho neanche la voglia di lamentarmi, dovevamo cercare invece di rimbocarci le maniche e lavorare. Affrontate un'altra grande squadra già tra tre giorni, può essere un vantaggio dover tenere alta la tensione dopo una gara così? Ma io non credo che questo dia vantaggi e svantaggi, credo che noi dobbiamo lavorare su noi stessi e far sì che mercoledì ci sia la stessa partecipazione, la stessa attaccamento al risultato. Poi cercando di migliorare gli aspetti che dicevo prima, perché poi è negabile che noi abbiamo tante cose da migliorare. Però attraverso questo spirito, secondo me, attraverso questo modo di interpretare le partite, sono sicuro che questi margini arriveranno presto. Stefano, sei tornato al gol ma è arrivata una sconfitta. Che bilancio dai, personale e di squadra, a questa partita? Il bilancio è sicuramente negativo perché è una partita non facile, anzi molto difficile, dove stavamo facendo anche discretamente bene, considerando comunque il valore tecnico dell'avversario. Ci siamo un po' complicati la vita da soli, dobbiamo tirar fuori quello che c'è di positivo, lavorare tanto perché quello che stiamo facendo non basta, la classifica parla chiaro, quindi dobbiamo assolutamente fare tutti di più, molto di più. Cosa serve a questa squadra per tornare a vincere? A questa squadra serve fiducia, serve comunque morale, che sono cose che ora sono veramente difficili da trovare. Abbiamo cercato di lavorare su questo, oggi in gran parte della partita l'abbiamo fatto, poi qualcosa evidentemente abbiamo sbagliato, quindi per vincere dobbiamo, come ti ho detto, fare tutti molto di più di quello che stiamo facendo. Ancora tre partite da qui alla sosta di Natale, la testa è già al Milan? Sì, stasera ci riposiamo, da domani partiamo per lavorare la partita di mercoledì, affrontiamo queste tre partite con un grande spirito perché dobbiamo assolutamente svoltare questa stagione. Grazie. Prego. Grazie.